Elezioni amministrative in Sicilia. Ieri abbiamo riferito la data indicata dall'assessore agli enti locali, Luisa Lantieri, per il voto nei comuni interessati. L'assessore aveva indicato la prima decade di maggio, ma a modificare il calendario ci ha pensato subito il presidente Crocetta, il quale punta in fece alla data del 4 giugno, salvo imprevisti legati alla situazione nazionale, che potrebbe portare ad elezioni politiche anticipate. Per le elezioni regionali si fa strada la scelta di ottobre e precisamente il 29 per il rinnovo dell'ARS. Un dato certo intanto riguarda la legge elettorale, che rimarrà identica con il listino del presidente e senza il voto di genere. Questo perché non ci sono più i tempi per una modifica della legge. Stando ai seggi che si spartiranno i nuovi eletti, la provincia di Agrigento ne avrà uno in meno, assieme alle province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa. In vista della consultazione per le regionali, chi si trova in condizioni di incompatibilità dovrà dimettersi 180 giorni prima del voto. Sono incompatibili tra gli altri i sindaci, i dirigenti regionali e tanti altri appartenenti alla pubblica amministrazione.